Perquisizioni e arresti stamane nelle province di Reggio Calabria, Milano, Napoli, Bologna e Pescara, oltre 25 soggetti indagati per associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di sostanza stupefacente. L'inchiesta, condotta dalla squadra mobile di Reggio Calabria, avrebbe coperto un'organizzazione contigua alle cosche dell'Andrangheta del mandamento ionico della provincia di Reggio Calabria, operante fra Italia, Colombia, Perù, Repubblica Dominicana e Spagna, che importava ingenti quantitativi di droga dal Sud America. Buenaventura è il nome che gli investigatori della Polizia di Stato di Reggio Calabria hanno dato all'operazione. L'indagine della Direzione Distrettuale Antimafia della Polizia di Stato conferma il ruolo autoritario e la leadership delle famiglie dell'Andrangheta nella gestione del traffico della droga. Da New Bridge a Columbus 1 e 2 a Buenaventura, quattro indagini della Polizia che segnano la lotta al narcotraffico dell'Andrangheta e le sue proiezioni internazionali. Era il 2014 quando la polizia italiana e le FBI, dopo due anni di indagini, erano riuscite a disarticolare il ponte del malaffare fra la Calabria e gli Stati Uniti. Nel 2015 gli stessi investigatori disarticolavano in Calabria e New York un sodalizio criminoso con proiezioni trasnazionali, dedito a traffici internazionali di sostanze stupefacenti tra gli Stati Uniti d'America e la Calabria. Buenaventura dimostra la forza e la capacità dei cartelli calabresi nello stringere accordi con i narcos al fine di importare dal paese sudamericano, in Calabria, ingenti partite di cocaina. Un'operazione che poggia su oltre 500 pagine di informativa della polizia intercettazioni telefoniche, telematiche, ambientali e due anni di indagini. Secondo gli investigatori reggini, il cartello calabrese riconducibile alle famiglie Morabito, Bruzzaniti, Palamara, aveva assunto concrete e avanzate iniziative per la pianificazione e la realizzazione di compravendita di droga lungo l'asse Reggio Calabria-Bogotà, da far arrivare verosimilmente al porto di Gioia Tauro attraverso apposite società operanti nel settore delle importazioni dei prodotti ortofrutticoli. Sono 19 i provvedimenti emessi, di cui 18 ordinanze di custodia cautelare, 14 in carcere, 4 ai domiciliari in Italia, per loro l'accusa è di traffico internazionale di sostanze.